Però bisogna fare uno sforzo in più e qual è lo sforzo in più? Secondo me è giusto il ragionamento che faceva ConfCommercio sul turismo e sul pagare le tasse in Italia, cioè chi usa Firenze paga le tasse a Firenze, che è un argomento sul quale con voi, con alcuni di voi si è litigato a proposito della tassa di scopo. Passai soggiorno, si litigò quando io andai a fare l'incontro con Berlusconi ad Arcore a chiedergli il contributo di soggiorno. L'unica volta che Berlusconi mi ha dato qualcosa, l'unica, perché poi è sempre stato un rapporto platonico, che capisco che voi facciate fatica a credere essendoci Berlusconi, ma è stato un rapporto platonico con l'eccezione della tassa di scopo che ottenemmo, ti ricordi cos'era, il 2010, che c'era a Roma e non l'aveva messa a Firenze e gli andai a chiedere di mettere a Firenze. Bene, la tassa di scopo ragazzi, avete visto, è utile la tassa di soggiorno.